Oltre 2.500 le iscrizioni per questa non competitiva che i comitati genitori delle scuole di Belluno organizzano ogni anno per accogliere fondi da destinare agli istituti stessi. Tutta la soddisfazione nelle parole dell'anima della Belluno School Run, Gian Giacomo Nicolini. Siamo molto contenti perché quest'anno ha partecipato tutti e tre gli istituti comprensivi, alla quinta edizione si è aggiunto anche il comprensivo 2 per cui la soddisfazione è massima, incredibile, meglio di così, credo non si possa fare veramente. Dove e come saranno destinati i fondi raccolti? I fondi raccolti vengono distribuiti tra i tre istituti comprensivi in base al numero di partecipazione per ogni scuola verrà dato un corrispettivo, quindi il numero di iscritti c'è sempre anche una competizione, l'unica competizione che c'è è questa, cioè chi si iscrive di più avrà più fondi e poi ogni plesso, ogni singolo plesso deciderà quale progetto proporre per l'anno successivo. Ci sono dai corsi di teatro, ai corsi di psicomotricità, chi acquista l'IM, insomma ognuno poi pensa a quello che può essere meglio per la propria scuola. Tutti i fondi vengono destinati interamente alle scuole.